Io non ho visto uno scontro, ho visto una discussione su alcune questioni, ma siamo tre forze politiche in questo governo, tre forze politiche che discutono, che non stavano insieme prima delle elezioni. E quando andiamo a fare per esempio... Siete quattro? Sì, mi scusi. Chi è che non contava, Renzi o Bersani? Quale dei due? No, non mi permetterei mai, conto tutti. Un bel lapsus freudiano. Sì, lui secondo me pensava a PD e Italia Viva, dice siamo in tre, perché lei lo considera acquisito alla maggioranza. E sono tre, lui sta imparando a giocare anche con la forza di Renzi e Renzi con la sua... Non è un bel segnale, era meglio quando era un po' più ingenuo secondo me il Movimento 5 Stelle, perché poi imparare va bene, ma imparare fare un vezzo dei difetti della politica, quello può essere un problema. Imparare a gestire sì, ma devi dare l'idea di una compattezza, dal mio punto di vista, di questa esperienza di governo è decisiva, ne rimangono sotto i 5 Stelle, il PD, l'EU, Italia Viva, ci rimangono sotto tutti se non funziona. Sì, però dimmi una cosa.